Una delle rappresentazioni sacre di Pasqua più amate della regione Campania. Stiamo parlando dei misteri di Procida che si svolgono il venerdì santo. Noi siamo venuti qualche giorno prima proprio per vedere come lavorano i ragazzi dell'Associazione Misteri e curiosare un po' tra quelle che sono le loro realizzazioni. Ci guida in questo itinerario Antonio Bracciano che fa parte dell'Associazione. Volevo così velocemente che tu spiegassi come nascono i misteri, fare un po' la storia. Sì, i misteri è una tradizione secolare che è radicata nell'isola di Procida e nei Procidani. In particolar modo negli ultimi anni ha avuto una trasformazione perché prima i misteri, la processione del venerdì santo veniva fatta con dei personaggi che si autoflagellavano. Dopodiché, dopo il concilio, cambiò e si iniziò con le realizzazioni plastiche della vita di Gesù. In particolar modo nella passione di Gesù. In realtà si parte dall'Antico Testamento, quindi c'è la rappresentazione della creazione, poi mano a mano la giornata in bocca alla balena, tutti i passi dell'Antico Testamento, fino a poi arrivare al cuore della processione con i momenti della passione, quindi la crocifissione, le resurrezioni, fino a poi vedere il futuro dell'Apocalisse. Noi ci troviamo a Terra Murata. Prima i misteri venivano, diciamo così, realizzati un po' nei portoni di Procida. Adesso si è creata questa cittadella dei misteri, tra l'altro in un posto meraviglioso, perché potete vedere, insomma, un panorama che domina tutta Procida. Quanto tempo dedicate a costruire i misteri? I misteri si costruiscono, ognuno di noi il progetto lo fa durante tutto l'anno, però in realtà si costruiscono durante la Quaresima, nei 40 giorni della Quaresima. Sì, come diceva lei, prima si costruivano negli atri dei portoni di tutta l'isola. Poi dal 2004, con la nascita dell'Associazione, siamo riusciti ad ottenere queste tendo strutture le abbiamo montate qui in un luogo stupendo, che è Terra Murata, dove realizziamo i nostri carri. C'è un po' di competizione tra voi, un po' di sana competizione a chi fa il mistero più bello? Sicuramente, sicuramente. Nella sana competizione c'è, c'è sempre uno sfottore tra i ragazzi, tra i vari gruppi, quelli più giovani, quelli un pochino più grandi. Prima era diverso, perché essendo nei portoni eravamo distribuiti per tutta l'isola. Adesso, stando concentrati qui, diciamo che un po' è sorpassata questa cosa, anzi, ci si cerca di aiutarsi a vicenda un po' di più. Quindi vi divertite anche. Senti, Procida è quest'isola bellissima, la vediamo tra l'altro, diciamo, noi siamo di rimpettai. Durante questo venerdì santo è affollatissima, viene gente da tutta la Campania, ma credo anche da altre zone d'Italia. Sì, viene gente da tutto il mondo. Vengono persone dall'America, i tedeschi sicuramente, che ci accompagnano sempre durante la processione. bisognerebbe sicuramente fare di più, per cercarla di pubblicizzarla di più, questa processione. Perché fino ad oggi si fa poco. Stiamo tentando di fare anche questo come associazione. Speriamo che ci vada bene.